buonasera a tutti penna di falco web prima puntata siamo qui con il grande presidente mimmo falco presidente ma giletti facci ma che sta succedendo è una stupidaggine come abbiamo discusso insieme né querele né denunzie per facci e giletti basta un pernacchio come diceva eduardo per farli perdere la faccia stiamo dando importanza a personaggi che non conoscono la storia di napoli non conoscono chi era gian battista vigo chi era jacobo sannazzaro antonio genovesi che cosa ha rappresentato la cultura napoletana nel mondo la grande capacità che hanno avuto i napoletani in tutte le arti sia dal punto di vista filosofico gian battista vigo sia dal punto di vista dell'arte come appunto vincenzo gemito il più grande scultore secondo me esistente ed ancora salvato rosa che nel mondo della pittura ha rappresentato uno dei grandi personaggi quindi giletti e facci sono povere persone che devono fare i conti con la loro ignoranza perché hanno diffamato un popolo senza sapere che civiltà che competenze che professionalità questo popolo ha espresso negli anni per quanto riguarda poi le condizioni della città ma tutte le aree metropolitane si trovano nelle condizioni di napoli è un problema di riorganizzazione dei servizi delle macchine comunali ma non si può fare di un erba un fascio mettere tutto sullo stesso piano cultura con conduzione della città ecco il grande errore che hanno fatto facci e giletti mi meraviglio che molti persone si siano date da fare per querelarli queste persone non meritano neanche la querela meritano solamente il disinteresse da parte dei napoletani non ci dobbiamo occupare di queste cose occupiamoci delle cose serie di questa città vedi alle mie spalle dove stiamo registrando c'è lo stadio san paolo io vorrei sapere quanti napoletani sanno la storia dello stadio quanto è stata importante nella vita della città di napoli costruire questo impianto e nelle condizioni in cui si trova attualmente facciamo qualcosa tutti insieme per migliorare napoli mettiamoli da parte coloro i quali vogliono criticare la cultura di questa città Presidente scusate ecco lei tutti insieme questa ora tutti quando sento tutti insieme mi viene la pelle d'oca ma facciamo io facciamo finta che giletti e facci ma abbiamo un interlocuzione può essere mai che noi non abbiamo noi napoletani non siamo stati in grado di rispondere come si deve in maniera precisa cioè voglio dire io ma com'è possibile che noi non ci sappiamo difendere questo non è così perché ci sono stati fior fior di napoletani e non solo di napoletani che sono insorti contro facci e giletti un mondo intero da Gerard Depardiera a Fiorella Mannoia e a tanti altri personaggi anche nel mondo della cultura internazionale si sono espressi a favore di Napoli e di questa meravigliosa città il problema non è di difenderci il problema è di far capire che esiste una civiltà una cultura che è quella millenaria che è quella che è stata rappresentata da Napoli in tutte le epoche questa è la mancanza di una classe dirigente nella sua interizza ecco perché io dico bisogna fare uno scatto in avanti e rimettere insieme tutte le professionalità che amano questa città io però voglio dire l'ultima cosa ma se fosse stato lei ospite alla trasmissione giletti cosa avrebbe quale sarebbe stata la sua risposta a quella ennesima provocazione beh io avrei chiesto a giletti se avesse eletto mai Gaetano Filangieri se avesse eletto un rigo di Gaetano Filangieri vedete la costituzione degli Stati Uniti d'America è la cosa più importante per uno stato democratico occidentale ebbene il diritto alla felicità parte da Napoli da una corrispondenza che Gaetano Filangieri ebbe con il presidente degli Stati Uniti d'America Benjamin Franklin basterebbe chiedere questo a giletti se conosce Gaetano Filangieri l'ultima domanda è poi andiamo via noi sa che facciamo una trasmissione che ha avuto un grande successo c'è delotto il calcio ma questo Napoli di Sarri che fa? guarda il Napoli è la mia passione io voglio dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo io seguo le partite del Napoli quelle di campionato solo quando c'è la cronaca di Carlo Alvino è perché mi fa sentire ancora di più napoletano io amo questa squadra Sarri ha fatto un grande passo in avanti mettendo una difesa con una linea molto alta e questa è la dimostrazione che questa squadra che è completa e perfetta non prende gol quindi bravo Sarri bravo a questo Napoli e soprattutto bravo a quei napoletani che a prescindere dall'allenatore a prescindere dai calciatori amano la maglia azzurra Presidente grazie siete sempre il numero uno pena di Falco Web prima puntata Edoardo siamo i numeri uno che è un po' di nuovo attrazione